Sport e salute oggi a Taranto per avvicinare le posizioni divergenti di governo e regione sui giochi del Mediterraneo. Il tempo scorre e gli impianti non sono nemmeno in cantiere, focus sullo stadio. A Taranto una grande folla ha sfidato la pioggia per dare l'ultimo saluto a Sharon, la 19enne che ha perso la vita in un incidente stradale l'8 marzo scorso. Giuliana De Sio e Alessandro Haber al fusco di Taranto con la signora del martedì, un noir dalle mille contaminazioni incentrato sulla vita di una donna. Ben ritrovati con l'informazione di Antena Sud, edizioni provinciali di Taranto, Brindisi e Lecce. Partiamo con Taranto e come avete sentito dai titoli parliamo dei giochi del Mediterraneo Sport. Il saluto è oggi quindi a Taranto per chiarire quale sarà il futuro dello stadio Iacovone, ma soprattutto come verranno realizzati i lavori. Per saperne di più ci colleghiamo in diretta con il collega Leo Spalluto. Buon pomeriggio Leo. E siamo di nuovo in diretta da Taranto, siamo sempre davanti alla sede della struttura commissariale dei giochi del Mediterraneo. Infatti si è prolungata davvero oltremisura questo incontro fra il commissario Ferrarese, l'amministratore delegato di Sport e Salute Nepi Molineris, il sindaco di Taranto e i tecnici. Ben tre ore e mezza di riunione, una riunione sicuramente estremamente difficile anche in tutti i suoi aspetti. Abbiamo sentito anche un confronto abbastanza vivace ovviamente stando all'esterno della stanza. La riunione dovrebbe concludersi a breve, riteniamo a brevissimo. Infatti abbiamo avuto in questo profilo assicurazioni da parte anche della portavoce di Sport e Salute. Quindi fra poco sapremo effettivamente quale sarà l'esito di questo incontro che lo ricordiamo ha come sicuramente punto principale quello dello stadio Iacovone, ovvero come procedere ai lavori di realizzazione e si scoprirà, si dovrebbe scoprire oggi se sarà possibile effettuare questi lavori di ristrutturazione dello stadio a settori e tenendo quindi aperta comunque la strattura per consentire alla squadra di calcio di poter continuare a giocare in campionato con la chiusura di un settore per volta senza dover emigrare. Questo è sicuramente il punto focale, il punto principale di questa riunione che ha anche altre tematiche. Ovviamente nelle prossime edizioni vi daremo i raguagli definitivi con le dichiarazioni riguardanti questa riunione. Per il momento ripassiamo la linea allo studio. Grazie Leo, andiamo avanti con 154 voti a favore, 46 contrari e 56 estenuti. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge relativo agli impianti ILVA di Taranto, contenente disposizioni che modificano la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sottoposti all'amministrazione straordinaria. Alcune norme sono relative alle imprese dell'indotto con riferimento alle quali in sede di conversione è stato inserito il contenuto del decreto legge 9 2024 contestualmente abrogato. Restiamo a parlare di ex ILVA perché un gruppo di operai slegato dalle sigle sindacali ha incontrato il presidente dell'AIGI Fabio Greco. La situazione dei lavoratori sta diventando davvero drammatica. Sentiamo. Sono sull'orlo della disperazione, non sanno se riceveranno emolumenti il prossimo 15 marzo, se avranno i soldi per mangiare. Un gruppo di operai slegati dalle sigle sindacali ha chiesto di incontrare il presidente di AIGI, l'associazione delle imprese dell'indotto di acceglierie d'Italia, Fabio Greco, sotto la sede di Viale Vergilio. Entro venerdì, ha sottolineato Greco, dovranno arrivare risposte dal governo. È un vero e proprio ultimatum e anche gli operai attendono rassicurazioni. Lo stabilimento si salva se si salva l'indotto e l'indotto è composto dalle aziende e dai collaboratori delle aziende. Noi con i sindacati stiamo sicuramente portando avanti un discorso importante, stiamo coinvolgendo e parliamo tutti i giorni con il Mimit, con Sace, con Regione Puglia e con il governo, perché arriveranno le risposte. Noi chiediamo la cosa più importante per noi in questo momento, cioè il rientro al lavoro. Più giorni passano e più la nostra situazione familiare si aggrava, ma lo dico con molta trasparenza e molta sincerità perché, credetemi, quell'agonia che stanno vivendo tutti questi padri di famiglia è qualcosa proprio di indescrivibile. Io avevo 18 anni quando sono entrato in quello stabilimento, adesso sono 21 anni di attività in quello stabilimento, ho 39 e due bambini. Io non penso che un lavoratore dopo 20 anni, perché mi rievo tutto giovane, ho 39 anni, mi devo togliermi il lavoro dopo 20 anni, di un'attività che porta anche malattia, porta anche malessere all'operaio, cioè non c'è niente di positivo in quello stabilimento attualmente, c'è solo la disperazione della classe operaia che vuole tornare al lavoro, semplicemente al lavoro. Passiamo nel capoluogo ionico, ma cambiamo decisamente argomento. Una grande folla ha sfidato la pioggia per dare l'ultimo saluto a Sharon, la 19enne che ha perso la vita in un incidente stradale, l'8 marzo scorso. Sharon era bellissima e amava la vita con tutta l'energia dei suoi 19 anni, il suo sorriso, la sua passione per lo shopping, il suo essere tanto affettuosa. Via, via per sempre, dopo ore di agonia. Un'altra giovane vita si è spezzata sulla strada, una strada che ogni giorno che passa diventa nemica dei giovani d'oggi. Don Giovanni Chiloiro, parroco di Cuore Immacolato di Maria, dice dobbiamo chiederci perché, perché tanti giovanissimi perdono la vita in questo modo. Forse dovremmo imparare anche noi ad essere qui, su questa terra, in questa casa che ci appartiene, imparare a vivere insieme. Con la famiglia, gli amici, quanti le hanno voluto bene, piange anche il cielo e piange ogni genitore presente. Vi raccomando, con le moto, con le macchine, bisogna avere la prudenza, bisogna avere. E tanto lo sgomento e tanta la paura di chissà che un figlio può uscire da casa e poi non fare ritorno. E questo ormai sembra accadere sempre più spesso. Ci spostiamo ora a Manduria. Cosetta chiudere per breve tempo a causa del maltempo. La Fiera Pessima prolunga la sua apertura dal 15 al 17 marzo, dalle 9.30 alle 20.30. Apertura straordinaria della Pessima di Manduria, chiusa domenica 10 marzo e la mattina del lunedì seguente a causa del maltempo. La storica campionaria proseguirà nelle giornate dal 15 al 17 marzo, dalle 9.30 alle 20.30. L'amministrazione comunale di Manduria, in accordo con l'organizzazione, ha spiegato nella delibera di essere interessata a garantire il prosegue dell'evento al fine di consentire agli espositori di utilizzare gli stand per un numero di giornate non inferiori a quelle inizialmente previste e per i cittadini di non perdere l'appuntamento simbolo della città di Manduria. In effetti la sospensione della Pessima conseguente all'allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale aveva sollevato qualche malumore tra un gruppo di espositori contrari alla chiusura. Gli stessi che si erano chiesti come mai il Luna Park non era stato fatto chiudere per gli stessi motivi. Nervosismo poi acquiettato dal sindaco che ha poi chiarito che in quel caso si trattava di suolo privato mentre quello della fiera è pubblico. Pertanto la Pessima con delle si spera più stabili condizioni meteo continuerà sino a domenica prossima. Parliamo ora di politica del Consiglio Comunale di Martina Franca che oggi ha approvato il piano delle opere pubbliche. Sono previste le alienazioni del patrimonio comunale e tra queste una misura specifica per l'ex Hotel Castello. Oltre 51 milioni di euro tra mutui, stanziamenti e finanziamenti destinati a interventi su tutto il territorio urbano sono le misure contenute nel piano triennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale di Martina Franca. Malgrado le difficoltà palesi a tutti per il periodo contingente che stiamo vivendo per superire le risorse per l'acquisto, l'aumento dell'acquisto delle materie prime, l'aumento dei costi energetici. Comunque questo bilancio prevede 51 milioni di euro di investimento per le opere pubbliche. Nel corso della seduta del Consiglio Comunale è stato votato anche il piano delle alienazioni immobiliari. Tra queste c'è una misura specifica che prevede una valorizzazione dell'ex Hotel Castello che ora può essere ceduto a privati. Il Consiglio Comunale ha approvato il piano delle alienazioni che costituisce variante per quanto riguarda l'immobile dell'Hotel Castello. Le destinazioni sono già state stabilite da una lunga discussione che ha visto una grande partecipazione sul piano urbanistico generale. Quindi ci saranno varie destinazioni possibili per renderlo appetibile anche al mercato. Chiaro che passerà da una procedura di evidenza pubblica. Sull'argomento anche alcune critiche da parte delle opposizioni. La critica in realtà non è nel merito del provvedimento perché sulla bontà di voler riqualificare un immobile che in realtà oggi non ha una prospettiva futura è corretta. La critica riguarda sempre le metodologie, riguarda sempre il rispetto di quelle che sono le norme e rispetto di quelle che sono le procedure e la forma. La sovrintendenza ferma momentaneamente i lavori finanziati dal PNRR di rifacimento della recinzione del monumento ai caduti in piazza 4 novembre a Grottaglie. Lo stop momentaneo per la sovrintendenza è necessario per la valutazione di interesse culturale. È un progetto finanziato da PNRR ed è un progetto che ha acquisito prima di andare in gara tutte le autorizzazioni necessarie. Non essendo un bene tutelato né da decreto né per la sua datazione non è stato necessario chiedere nessun parere alla sovrintendenza. Seppure i lavori interessano solo la recinzione perimetrale e per niente l'opera all'interno a sollecitare la sovrintendenza sono stati alcuni cittadini riuniti nel gruppo di tutela del monumento. L'amministrazione comunale dal canto suo dice di aver tutta la documentazione necessaria da presentare. La segnalazione fatta da questi gruppi di cittadini ha fatto avviare una procedura di valutazione da parte della sovrintendenza. Noi abbiamo già preparato tutta la nostra documentazione che è in possesso del comune e la presenteremo in questi giorni. Per quello che ci risulta la recinzione non fa parte del monumento. Lavori come detto finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Così... Stiamo valutando anche l'aspetto legale della situazione perché questo provvedimento si sovrappone a un'opera pubblica già in corso. E adesso parliamo di spettacolo. Giuliana Desio e Alessandro Haber al Fusco di Taranto con La signora del martedì. Un noir dalle mille contaminazioni incentrato sulla vita di una donna. Un'intervista in esclusiva di Antena Sud. Sentiamo. Giuliana Desio e Alessandro Haber, amici e colleghi di vecchia data che si sono ritrovati a teatro per la prima volta insieme con La signora del martedì. Un racconto dolce e amaro che ha collezionato sold out da un capo all'altro del nostro paese e ha fatto tappa anche a Taranto nell'ambito della stagione organizzata dal teatro comunale Fusco e sostenuta da teatro pubblico pugliese. E non tutti sanno che proprio Haber si dice l'abbia spinta a diventare attrice ormai un po' di anni fa, è vero? Eh, un po', più di 40 anni fa, sì, io avevo 18 anni, sì, è stato lui che mi ha spinto, è stato lui che mi ha portato quasi per i capelli a fare il primo provino, io non volevo. È la prima volta che lavoriamo insieme in teatro, ce ne siamo riproposti tante volte ma ognuno ha i suoi progetti, le sue cose, non era facile. La signora del martedì è Alfonsina Malacrida, detta Nanà, che ogni martedì tra le 15 e le 16 va a comprarsi un'ora d'amore. A riceverla c'è Bonamente Fanzago, un ex attore porno adesso in declino che in passato ha svolto anche il lavoro di Gigolo e che ora si trova ad avere come cliente solo Nanà. È una donna che si è nascosta tutta la vita e che però da tutta la vita è perseguitata tra un destino, è una specie di eroina tragica. Ho trovato la storia che cercavo, la storia che ogni giornalista cerca per tutta la vita. A Berinscena è Pietro Maria Belli, un cronista che non guarda in faccia a nessuno e che con le sue domande fa emergere il ripassato torbido di Alfonsina. Un noir pieno di contaminazioni, è giusto definirlo così? Tanta roba, si passa dalla commedia al dramma, al vaudeville, ironico, divertente, con la partitura musicale, all'inizio la gente non capisce di cosa si tratta, poi lentamente c'è una catarsi degli eventi. Perché a volte noi ci travestiamo per nasconderci e altre volte per essere noi stessi. Interessante è poi l'elemento del tango che arriva nella parte finale. È diventato un rifugio in cui lei si è chiusa nei momenti più brutti della sua vita. Ma Giuliana De Sio, il tango, le piace, lo ama, non le piace. No, ho costruito tutta questa storia sul tango. Non sarebbe da fare neanche un film, ci stiamo progettando. Problemi di viabilità e sicurezza a Brindisi, resta ancora chiuso il cavalcavia dove sabato scorso un tir ha sfondato al guardrail precipitando sulla strada sottostante e problemi si verificano anche in centro dove il cavalcavia De Gasperi presenta problemi strutturali. Per lo svolgimento del G7 a giugno a Savelletti di Fasano saranno stanziati 18 milioni di euro per il rifacimento delle strade della provincia di Brindisi e Bari interessate dall'evento. I diritti delle donne e la Costituzione, ma non solo, al centro dell'incontro organizzato da Ampi a Castello Imperiali nell'ambito degli eventi dell'8 marzo. L'avete sentito nei titoli, problemi di viabilità e sicurezza. Nella capoluogo messapico resta ancora chiuso il cavalcavia dove proprio sabato scorso un tir ha sfondato il guardrail precipitando sulla strada sottostante. E problemi si verificano anche in centro dove il cavalcavia De Gasperi presenta problemi strutturali. Primo servizio. Strade insicure, problemi per il traffico e l'incolumità degli automobilisti. Brindisi, iniziamo dalla zona del cosiddetto incrocio della morte. A quasi cinque giorni dal terribile incidente che ha visto un'auto articolato sfondare il guardrail e precipitare sulla strada sottostante, la rampa di collegamento tra la statale 7, quella che proviene da Taranto, per intenderci, e l'imbocco per Lecce, è ancora chiuso al traffico e non c'è traccia di lavoro in corso. Inevitabili, problemi alla circolazione, soprattutto nelle ore di punta. Al posto del guardrail c'è una rete arancione, quel guardrail sul quale è incentrata l'inchiesta che deve far luce su un incidente che solo per puro caso non si è trasformato in tragedia. Quello è il punto dove è avvenuto l'incidente. Il cavalcavia dunque resta ancora interdetto al traffico, il che costituisce un problema non di poco conto dal momento che da qui passano alcune delle arterie extraurbane più importanti del territorio. Per ora non ci sono risposte su quando sarà messa in sicurezza la strada e soprattutto su quando potrà finalmente riaprire. Ci spostiamo verso il centro dove c'è un altro problema che preoccupa i brindisini, il cavalcavia De Gasperi, punto di raccordo tra la città e in particolare quella viale Aldomoro disastrata dal cantiere della pista ciclabile Fantasma e il centro. La struttura, che risale agli anni Sessanta, riporta evidenti danni, tanto che il comune con un'ordinanza urgente ha disposto il divieto di transito per i mezzi pesanti, autobus compresi. Qui si è in attesa della relazione di valutazione di sicurezza richiesta ad una ditta specializzata, così come fatto da diverse amministrazioni dopo la tragedia del ponte Morandi. Intanto però infiltrazione di pioggia e il transito di veicoli continuano a deteriorare il ponte come dimostra la continua caduta di calcinacci. E allora si è ancora in attesa di risposte e sicurezza. Ha rubato un'auto dal parcheggio del centro commerciale, ha cercato anche di impossessarsi di un altro mezzo. Un uomo di brindisi raggiunto questa mattina da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri. I due episodi risalgono ad ottobre 2023 e lo scorso mese di febbraio sono stati commessi nell'area di parcheggio del centro commerciale Le Colonne. Accuse come sempre tutte da dimostrare, ma intanto l'indagato è finito in carcere. Ancora una notizia di cronaca. Nella pomeriggio di ieri a Latiano i carabinieri della stazione di Mesagne hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne del posto per un delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare nel corso di un servizio di controllo del territorio il personale operante ha proceduto al controllo di un veicolo condotto da un giovane il quale da subito ha assunto un atteggiamento particolarmente nervoso che ha insospettito i militari i quali hanno ritenuto opportuno approfondire e seguendo una perquisizione hanno individuato il giovane con due borsoni contenenti 5 kg di sostanza stupefacente in particolare marijuana e 66 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish. 16 milioni, scusate 18 milioni sono tanti i soldi che saranno stanziati per il rifacimento delle strade della provincia di Brindisi e Bari interessate dal G7. Il G7 in Puglia non porterà solo benefici di visibilità alla regione che dal 13 al 15 giugno si ritroverà al centro del mondo ma anche miglioramenti alle sue infrastrutture tra cui soprattutto le strade che per quasi 150 chilometri tra le province di Brindisi e Bari saranno completamente rifatte. Dopo la Camera anche il Senato ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto che prevede lo stanziamento di 18 milioni di euro per la realizzazione e il restyling di infrastrutture adeguate allo svolgimento del vertice mondiale delle sette potenze economiche del pianeta 16 milioni dei quali destinati per interventi proprio per le reti stradali 36 chilometri di strade comunali, 26 chilometri di provinciali e 84 chilometri di strade statali altri 2 milioni saranno stanziati per la costruzione di due eliporti è stata anche decisa la nomina di un commissario straordinario di governo che coordinerà la gestione degli interventi per la provincia di Brindisi. Si tratta di un vero toccasana perché la zona costiera compresa tra Ostuni e Fasano cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni a livello turistico e letteralmente esplosa grazie ai resort a 5 stelle uno dei quali Borgo Egnazia sarà il quartiere generale del G7 patisce il degrado di un sistema stradale non adeguato alle nuove esigenze in particolare proprio nella zona del parco archeologico di Egnazia e in quella di Savelletri per velocizzare i lavori l'assegnazione degli appalti sarà effettuata dal commissario in deroga alla pubblicazione dei bandi e alla ordinaria procedura di gara anche con affidamenti diretti Dopo le polemiche dei giorni scorsi riguardanti la postazione della 118 a Brindisi presso il quartiere Casale il sindacato della funzione pubblica UIL chiede ora controlli sulle condizioni di tutte le postazioni territoriali Dopo le polemiche dei giorni scorsi e il dialogo tra l'Asda Brindisi e l'amministrazione comunale relativa alla situazione della postazione del 118 del quartiere Casale la funzione pubblica della UIL chiede risposte soprattutto vigilanza e controlli sulle varie postazioni presenti del territorio con una necessità quella della tutela e della sicurezza fisica e psichica degli operatori presenti Noi stiamo chiedendo anche un controllo da parte degli organi competenti lo spesa in questo caso e l'RSPP dell'ASL un controllo di tutte le postazioni non solo quelle del Casale per monitorare gli ambienti perché è una cosa importante questa qua l'ambiente di lavoro e la sicurezza sul posto di lavoro è importante Parliamo di gente che interviene su casi importanti molto importanti a volte l'ultimo è stato quello che è a lieto fine che ha visto la nascita in aereo di un bambino dove sono stati sanitari del 118 che sono arrivati in aereo quindi grazie anche alla vicinanza della postazione e hanno dato la possibilità a questa donna di partoria questo è il segnale dell'importanza delle postazioni 118 più tutte le vite umane che salvano tutti i giorni se su questo non si alza un po' di attenzione noi come Will FPL siamo molto attenti le abbiamo denunciate adesso gireremo e chiederemo anche alla presenza del direttore generale quando noi andiamo nelle postazioni per far visionare direttamente al direttore generale i locali dove sono costretti a lavorare nei depositi della Multiservizi società partecipata del comune di Brindisi ci sarebbero pali e cavi elettrici nuovi mai utilizzati e la denuncia di due consiglieri di opposizione che chiedono l'immediato utilizzo di questo materiale per illuminare le zone della città ancora al buio 5 pali e 5 chilometri di cavi acquistati dal comune di Brindisi e lasciati nei depositi della partecipata Multiservizi materiale simile a quello utilizzato recentemente per rinnovare l'illuminazione di Parco di Giulio che potrebbe servire evidentemente a illuminare le zone della città ancora al buio la denuncia dei consiglieri comunali di opposizione Pasquale Luperti e Michelangelo Greco che chiedono all'amministrazione del sindaco Marchionna di intervenire al più presto per utilizzare questo materiale che rischia altrimenti il deterioramento abbiamo messo in evidenza una situazione un po' inconcepibile da parte nostra perché siamo venuti a conoscenza che nei depositi della Multiservizi già c'è dell'attrezzatura pagata dall'amministrazione comunale quindi parliamo di oltre 200 pali e 5 chilometri di cavi che potrebbero essere utilizzati prima che poi possano deteriorarsi e questo permetterebbe di intervenire su alcune zone soprattutto periferiche, qualche contrada per dare un po' di decoro, un po' di illuminazione e permettere quindi anche alla stessa Multiservizi di lavorare visto che è la situazione in cui si trova ci spostiamo ora a Mesagne un piano di riqualificazione che prevede tra l'altro la realizzazione di un parco pubblico di 4 ettari è stato presentato alla quartiere Grutti Calderoni un'area verde incolta di circa 4 ettari trasformata in parco pubblico con viottoli per passeggiare 200 alberi un'area per organizzare piccoli eventi e un parco giochi per bambini il quartiere Grutti Calderoni all'estrema periferia di Mesagne sarà sottoposto a un radicale intervento di rigenerazione urbana che verrà finanziato grazie al PNRR con 5 milioni di euro e il nuovo giardino pubblico che sarà circondato da parcheggi gratuiti comunali diventerà un punto di riferimento non solo per i residenti ma per l'intera città si tratta di un intervento che ci permetterà di avere un parco dalle caratteristiche mitteleuropee quindi un parco moderno un parco concepito affinché le famiglie possano trascorrere ore di serenità in questo luogo che sarà straordinario tra l'altro abbiamo fatto in modo che gli interventi siano in linea con i principi di sostenibilità che noi abbiamo sposato per cui il 98% della superficie di quest'area che sarà di quasi 4 ettari sarà drenante quindi l'acqua andrà nelle falde il progetto punta alla rigenerazione di una zona ai confini con le campagne i cui residenti da decenni chiedevano un'integrazione urbanistica al passo con il resto della città gli altri due interventi invece riguardano la riqualificazione in particolare di Piazzetta Volpe e la riqualificazione di tutte le strade urbane del quartiere Grutti anche con l'adeguamento dei marciapiedi per l'abbattimento delle barriere architettoniche I diritti delle donne e la Costituzione ma non solo al centro dell'incontro organizzato da Ampi a Castello Imperiali a Frecavilla Fontana nell'ambito degli eventi dell'8 marzo Dai diritti negati o semplicemente troppo spesso ignorati ad una riflessione più ampia sul ruolo della donna e delle donne poi il ricordo di Clementina Somma sindacalista e consigliera comunale che negli anni 90 si battè per il recupero del teatro della Scuola Media Virgilio proprio in queste settimane oggetto dei lavori voluti dall'amministrazione comunale sono questi con annessa raccolta firme per l'intitolazione dello stesso teatro al rappresentante sindacale i temi portati a Castello Imperiali da Ampi l'8 marzo è passato l'8 marzo non è stato abbastanza Sì, nel momento in cui si parla di donne e del valore delle donne bisogna anche ricostruire le loro storie e quando ci sono storie importanti come quella che verrà ricordata questa sera è bene che la cittadinanza ne venga a conoscenza e se ne è propri anche con una partecipazione diretta come la raccolta di firme L'8 marzo chiaramente diventa un momento di condivisione di valori, di pensieri, di idee che purtroppo restano spesso alla forma astratta e diventa ancora difficile metterle in pratica Allora, l'8 marzo è una giornata importante per le donne, per le donne di tutto il mondo è una giornata dei diritti delle donne Io sono rimasta sorpresa che quest'anno la giornata sia stata trasformata in una giornata come il 25 di novembre cioè la giornata contro la violenza In Italia la violenza è un fenomeno grave ma se non si parla di diritti non si risolve neanche il problema della violenza perché a monte della violenza molto spesso c'è la negazione dei diritti del riconoscimento della persona È sconvolto il Salento dopo gli arresti dei 22 bulgari accusati di aver favorito l'arrivo di donne in Italia promettendo loro un lavoro e una vita migliore e invece le costringevano anche picchiandole a prostituirsi il senatore Marti complimenti agli uomini della questura Aria sana nel degrado l'ennesima denuncia del centro-destra a parlare l'aspirante consigliere comunale Laura Calò Dopo un anno di stop e di polemiche riapre il centro-posta di Felline parla il sindaco del paese del Salento In apertura torniamo a parlarvi dell'operazione che è scattata all'alba di ieri contro la prostituzione da parte della squadra mobile di Lecce in seguito alla quale 22 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare Sulla vicenda è intervenuto anche il senatore Marti complimentandosi con gli uomini della questura di Lecce Sono 22 i soggetti la maggior parte di nazionalità bulgara che all'alba di martedì 12 marzo sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare di cui uno ai domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Lecce Antonio Gatto sostituto poi dal collega Alcide Maritati su richiesta della PM della Direzione Distrettuale Antimafia Giovanna Cannalire e delle colleghe della Procura Erika Masetti e Rosaria Petrolo L'attività investigativa in seguito alla quale risultano indagate 30 persone ha permesso di individuare un'associazione a delinquere dedita allo sfruttamento della prostituzione e alla riduzione e al mantenimento in schiavitù di alcune donne tutte di nazionalità bulgara Quest'ultime sarebbero state fatte entrare in Italia con la promessa di un posto di lavoro da un connazionale di 44 anni in realtà sarebbero state vendute all'associazione per poche migliaia di euro e introdotte in un giro di prostituzione la cui base logistica secondo gli investigatori era un'abitazione situata in via Serafino Elmo a Lecce dove su carta invece era stata dichiarata un'attività impegnata nel commercio di autovetture qui sarebbero avvenuti rapporti sessuali tra clienti e ragazze le quali inoltre venivano anche accompagnate per prostituirsi sulla strada statale 101 all'altezza del comune di San Nicola presso lo scalo ferroviario di Surbo in un'abitazione di Trepuzzi le attività di sfruttamento della prostituzione sono state documentate dagli uomini della squadra mobile di Lecce attraverso riprese video intercettazioni telefoniche ambientali e servizi di osservazione nelle prossime ore gli arrestati si presenteranno dinanzi al GIP Antonio Gatto per gli interrogatori di garanzia il senatore Roberto Marti esprime i suoi complimenti alla questura di Lecce per l'importante operazione condotta contro lo sfruttamento della prostituzione l'operazione ha visto l'arresto di 22 persone l'azione è stata eseguita con grande determinazione e l'impegno da parte delle forze dell'ordine che hanno impiegato anche un elicottero per solvorare il centro città alle prime luci dell'alba questo gesto sottolinea l'importanza e l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare questa grave forma di criminalità le persone coinvolte negli arresti sono principalmente di una solità bulgara e sono accusate di aver introdotto donne stranieri in Italia provenienti da diverse nazioni con la promessa di un lavoro e una vita migliore è fondamentale scrive garantire la tutela dei diritti umani di tutte le persone combattendo ogni forma di violenza e tratta di esseri umani il senatore si impegna a sostenere e promuovere politiche iniziative volte a prevenire e contrastare lo sfruttamento della prostituzione è necessario continua a scrivere un approccio multidisciplinare che coinvolga non solo le forze dell'ordine ma anche le istituzioni sociali le scuole le forze governative per affrontare questa sfida sociale in modo efficace il senatore Roberto Marti conclude congratulandosi ancora una volta con la questura di Lecce per l'operazione svolta e si impegna a sostenere ogni sforzo volta a combattere la criminalità in tutte le forme è di due feriti di cui uno in codice rosso il bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina poco dopo alle 12 sulla 275 nella Salento sentiamo i particolari nel prossimo servizio un altro mezzo è stato incendiato nella notte tra martedì e mercoledì in via Pistoia a Lecce intorno alle ore 3.20 circa una squadra dei vigili del fuoco intervenuta nella strada periferica del capoluogo salentino per spegnere un rogo che ha coinvolto un Fiat Ducato al momento dell'arrivo dei caschi rossi il veicolo era già interessato nella sua parte anteriore dalle fiamme i vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e messe in sicurezza della zona mentre attualmente sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine intervenute al fine di determinare l'origine e la natura dell'incendio la notte precedente nella stessa via era stato dato alle fiamme un furgone simile intestato ad un 72enne del posto questo è il servizio relativo alla notte di fuoco appunto sempre nella Salento adesso andiamo avanti ci spostiamo ad Ugento perché ci sono 10 milioni per le condutture dell'acquedotto sentiamo sono iniziati dalla frazione di Gemini i lavori sulla conduttura idrica di acquedotto pugliese che per i prossimi 12 mesi proseguiranno poi anche a Ugento nella località Fontanelle della Marina di Torre San Giovanni a Torremozze Lidomarini l'intervento che ha un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro somma interamente coperta da fondi messi a disposizione dall'autorità idrica pugliese consiste nella sostituzione delle condutture principali e secondarie del sistema Ugentino che nei mesi precedenti era oggetto di continue perdite i lavori inoltre consentiranno il monitoraggio di portata e pressione dell'acqua risolvendo così un problema che da anni affliggeva i residenti costretti a far arrivare il flusso idrico ai piani alti delle abitazioni con l'ausilio di autoclavi l'amministrazione comunale è stata già perseverante durante gli anni precedenti nel richiedere quelli che oggi diciamo risultano essere gli interventi alla vista di tutti ma soprattutto ancora prima che partissero questi interventi l'autorità idrica pugliese insieme ad acquedotto pugliese hanno finanziato e sono intervenuti già su un'altra opera importante cioè quella di sostituzione di manutenzione straordinaria di quelle condotte che sono presenti agli avamposti dei centri abitati per sostituirle e per efficientarle al termine dell'intervento poi sono già in programma altri lavori in tema di sicurezza stradale e pose in opera di asfalto delle vie interessate si passerà dalla stesura del provvisorio binder quindi l'asfalto con una granulometria grossa per passare poi dopo qualche mese come richiedono le fasi di lavorazione alla stesura del tappetino finale d'usura esteso su ogni sede stradale per quanto essa sia larga per quanto essa sia lunga e ora andiamo a vedere il servizio dell'incidente stradale che ha provocato due feriti di cui uno in codice rosso questa mattina poco dopo le 12 sulla 275 del Salento vediamo un violento incidente tra due veicoli si è verificato poco dopo le 12 di mercoledì mattina sulla strada statale 275 due auto una mercedes classe A e una fiat tipo che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrate nel tratto di strada compreso tra lessano e lucugnano in seguito all'impatto il primo mezzo ha poi urtato contro un muro di cinta di un'abitazione situato a bordo strada mentre la fiat tipo ha terminato la sua corsa in un terreno adiacente la statale ribassato rispetto alla carreggiata per estrarre il conducente dal veicolo infatti rimasto incastrato tra le lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase che hanno raggiunto la zona del sinistro insieme ai sanitari del 118 questi ultimi dopo un primo soccorso sul posto hanno provveduto al trasferimento dei due feriti in codice giallo e rosso presso l'ospedale cardinale Panico di Tricase il Vito Fazzi di Lecce ad avere la peggio è stato il conducente della fiat tipo che in seguito all'incidente ha riportato un trauma toracico ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione i rilievi sono affidati ai carabinieri della stazione di Alessano che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare eventuali responsabilità torniamo ora a Felline perché dopo un anno di stoppe e anche di polemiche è riaperto il centro posta del paese e parla il sindaco sentiamo cosa dice ai nostri microfono l'ufficio postale di Felline frazione di Alliste dopo essere stato oggetto di importanti lavori di carattere strutturale è tornato operativo a partire da mercoledì 13 marzo l'intervento che ha interessato lo stabile il quale ospita questo importante servizio si era reso necessario in seguito a delle infiltrazioni d'acqua che provenivano da alcuni locali di proprietà comunale situati ai piani alti del palazzo baronale adiacente il ritardo nell'esecuzione dei lavori aveva suscitato non poche polemiche nei confronti dell'amministrazione comunale da parte dei cittadini che si sono visti privati dell'ufficio postale per circa un anno siccome si tratta di interventi che si fanno su ambienti sottoposti a tutela da ordini sovraordinati principalmente la sovrintendenza è chiaro che qualsiasi intervento che va fatto ha bisogno di una serie di autorizzazioni il comune interveniva anzi doveva intervenire in quanto si era ostruito un pluviale il pluviale ha fatto mantenere dell'acqua e l'acqua è piovuta su elementi che costituivano gli ambienti delle poste il comune per poter intervenire deve necessariamente ha dovuto fare delle mediazioni quindi fra posta privata fra proprietà e quindi parti private purtroppo la burocrazia in Italia rallenta molto non nego che c'è stato c'è una interlocuzione fra l'amministrazione e le parti privati anche per eventuale acquisto di quei beni anzi diciamo che sarebbe un'intenzione l'intenzione del comune sfruttare tutte quelle che possono essere le opportunità che entri sovraordinati quali regioni o ministero danno al fine di poter acquistare ed era questo il nostro ultimo servizio grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo di Puglia